Per farvi capire, se il pesce grosso mangia il pesce piccolo, probabilmente uno di 90 kg qua dentro potrebbe schiacciare uno di 35 kg e prendersi la maglietta. Ma siccome non vince né il pesce grosso né il pesce piccolo, ragazzi io mi dico che secondo me è il caso di voi prendere dei provvedimenti, perché io la maglietta la regalo, però non c'è qua. Un pollo, sei un pollo, sei un pollo, hai visto? E' stato più veloce, bravo, bravo, non vedi? No, 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 una dieciata. Non si vede la maglietta, non si vede la maglietta, capite qual è il concetto, ok? Mi piacerebbe che tutti quelli che volevano la maglietta, tutti quelli che volevano la maglietta avessero alzato il culo e ce l'avessero voluto prendere, perché se io volevo una cosa... Si vede la maglietta, non si vede la maglietta, non si vede la maglia più Witchless, però non si vede la maglia più e come un pollo, non si vede la maglia più con me.